purtroppo il lampione della pubblica illuminazione che garantiva una magnifica luce diretta verso la finestra si è fulminato conoscendo l'attesa media per la manutenzione di non meno di sei mesi ed avendo già promessa al mio gatto un book fotografico ho dovuto trovare una rapida soluzione comprare una macchina fotografica con iso sufficiente a fotografare anche a luma di candela prendere più lampadine possibile al campo santo e collegarle al lampadario chiamare Gennaro detto Pasquale ma per gli amici Zenone il fotografo e delegare a lui scandagliare tutte le cianfrosaglie sparse per casa per assemblare un softbox a costo zero fortunatamente ero in bagno seduto nel luogo migliore per riflettere e l'occhio mi è caduto su una tannica di candeggina che in un millesimo di secondo è stata renderizzata dal mio cervello analogico in una softbox esso in sostanza serve per simulare la luce naturale che è più morbida e diffusa contrariamente ad una semplice lampadina o ad un flash che seppur potente è più simile ad un raggio laser che la luce che entra da una finestra solitamente sono composti da una fonte luminosa artificiale da un pannello riflettente da uno schermo semi trasparente basterà tagliare un lato della tannica ricoprire metà interno con della carta alluminio praticare un foro nel centro della parte rivestita per alloggiarci il porta lampadina montare un interruttore avvitare la lampadina riagganciare il lato tagliato e magari sistemare il tutto su un'asta meglio se snodabile ovviamente anch'essa auto costruita con vecchie mazze di scopo per avere un effetto ottimale potenza della lampadina e grandezza della tannica devono essere proporzionali alla superficie da illuminare declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento aspetto i vostri commenti mi piace e le iscrizioni al canale a presto grazie per la visione ciao a presto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito 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 www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.